sulle mani romani è il mio piccolo esercito è bene o male mi portate che te lo parli e tutti gli altri a fare il culo andiamo a tassi Facebook e non mi portate a chi ti lo fai io mi portate bravo mi portate mi portate mi portate mi portate il caso mi portate non ci si può le modate è una mia parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.